Ciao a tutti, è appena finita la prima parte dell'udienza per Assange, siamo qui esattamente all'uscita dalla corte, abbiamo ascoltato quelle che sono le ragioni che ha portato l'avvocato degli Stati Uniti e noi assolutamente non siamo d'accordo, abbiamo fatto una breve diretta su Twitter per cercare di tenervi informati in tempo reale, adesso l'e-ring riprenderà per le due, ci vediamo dopo e vi continuerà a tenere aggiornati. Grazie a tutti